Grazie Ma guarda, eravamo primi a dire la verità Quindi abbiamo perso proprio il neozelandese all'arrivo E peccato Perché comunque ci sono tantissime alghe in acqua, legni E vabbè insomma Comunque avanti così Comunque sei lì e hai capito che puoi entrare in medal Niente è impossibile Sì, sì, sicuramente Beh, complimenti davvero, bravissimo Vediamo di andare avanti così Accidenti, grazie, ciao